San D'Antonio è qua da scala. Ma dove sta questo paradiso? Ma che va che diceva? Qua siamo in paradiso. Ma quale paradiso, Iuri, se siamo nella tua Napoli? Fa lo stesso, Bonardè, non sottilettizziamo. Per un vero napoletano, questo è il paradiso. Comunque, non intendevo essere blasfemo, ma è sacro rispettare le tradizioni e quindi siamo pronti per Sanremo. E appunto, pensiamo al festival che dobbiamo riprendere giochi semiseri. È naturale. Ogni anno, a febbraio, c'è l'usanza per giochi semiseri di commentare il festival. Nuove canzoni, tormentoni, che robè. D'altronde, Sanremo si ama. A proposito di ama, ma lo sta, vedi se riesci a beccarlo. E beccarlo sarà molto difficile perché sta facendo tutta l'Italia a piedi con Gianni. Eh, lo so, lo so, lo so, ma è tutto inutile. Quello va sempre a cento all'ora. Buon amore, short. Ma figurati, Gianni è percinetico, come ha detto qualcuno. È difficile che stia fermo. Uè, comunque, non ci perdiamo in chiacchiere. Se volete star lontano dallo stress, commentate Sanremo con noi, su Suggestioni Press. Azz. Tranquilli ragazzi, ci sono anch'io. Che fortuna.